27 28 29 beh forse abbiamo trovato cosa fare siamo al centro commerciale ma la testa facciamo rifornimenti per il giorno di domani e anche per il viaggio volendo anche se quelli provi che facciamo l'ultimo giorno lei dice solo sì dice niente altro è abbastanza grande e pure così vuoto è tutto chiuso e nulla sembra così invitante questo sushi abbiamo fatto la spesa abbiamo preso un sacco di roba al 50 per cento perché è brutto buttare la roba e soprattutto se ce la mangiamo molto meglio lei mi chiede come abbiamo fatto a spendere così tanto ho speso 10 euro per una nuova scheda sd che metterò dentro questa videocamera stasera per la fiera di domani effettivamente in video non rende ma è comunque bello e ora andiamo a mangiare dovete sapere che io ho un buon rapporto con il mango perché quando ero in tunisia mi ha salvato praticamente la vita stavo malissimo ho bevuto un tè al mango e sparito tutto e quando ho scoperto che hanno fatto queste qui al mango tipo non ho aspettato altro che abbassassero il prezzo per prenderle quelle allo zenzero e limone sono fantastiche quindi sono di un dolce mamma mia sono buonissime e proviamo a sciacquare questa dolcezza con la fantalluva ti dicessi che non è dolce mentirei e non so se ti piacerà a me dispiace sembra di bere una big bubble questo è il mio carpaccio di pesce però c'è un problema io odio i semi di finocchio però ci ha portato un sacco di patate e la mia pasta e ceci amo dove la mia pasta e ceci poverino dai no lo so però dove la mia pasta e ceci e gli aveva chiesto un mestolino in più non ha capito l'ha portata via e io sono senza la mia pasta e ceci piove piove in continuazione riusciremo ad andare al san marino comics questo sarà il comics più bagnato della nostra vita qualcuno appena sceso dal pullman ha fatto subito il suo primo acquisto della giornata perché l'hai presa siamo arrivati è la prima cosa che sentiamo un bambino che piace ha una mezza atmosfera un po alla lucca siamo in fiera però non c'è nessun cosplay ha un'atmosfera molto lucchese però è tutto molto più stretto molto più piccolo è ancora più schiacciato se andiamo di qua c'è lupen lì inizia a esserci più roba molto artistica sono così triste ora avevo papyrus pronto dannazione ad averlo saputo prima amo gli onigiri letteralmente morendo di fame sembra di stare in mezzo alle terre di skyrim salve avventuriero le voglio voglio le paperelle voglio questo poster voglio portarlo da casa amo è bello lupen però sono una star borsa tu appena sveglia mi scusi un bar sa dove trovarlo ciao guarda tu appena sveglia eh si sono abbastanza antipagno la martina io almeno però almeno non perdo la bava come te dai e ora sono single qui a San Marino ci sono un sacco di negozi che vendono armi sia da soft air sia effettivamente vere i grandi pranzi lì è cominciato a piovere siamo così in alto e non sappiamo come scendere ah non sapevo di essere sulla grande muraglia cinesi la vastità del cazzo che me ne frega guarda è enorme è immensa sono abbastanza sicuro che cadere da qua non sia piacevole neanche per una videocamera guarda qua che un po' si è tolta la nebbia prendi un attimo il cuscino per favore voglio vederlo da vicino hai trovato qualcosa finalmente? certo non è proprio come quello di Cagome perché non è così elaborato è più semplice come questo ma meno di quel prezzo secondo me non lo trovi vorrei tanto tirarla fuori dalla custodia acquatica ma continua a piovere e a smettere a piovere e a smettere a piovere e a smettere io ho preso forse ho anche exagerato dai ascolta per una volta booster pack di magic a tema dungeons and dragon e l'espansione di exploding kitten sono triste di aver speso ma sono contento di averlo fatto sono contrastato da me stesso tu cosa hai preso? yeee la statua di L comprati questi amo li voglio comprali li voglio che li metti ciao grazie da voi anche tu amo grazie grazie ciao che gentili ora che finalmente ha smesso un bel po' di piovere e si è aperta la nebbia posso rimetterla qua dentro molto più soddisfacente ora che cosa abbiamo comprato finora troppo e comunque il gel messo qui davanti a questa statua è molto provocatorio penso che mi gellerò le mani guardandola tutto sto cibo artigianale mi piace dobbiamo andare a videogames village buono con i peperoni ma qua sparano ma ma dobbiamo scendere san marino si può racchiudere in poche parole mura e tante scale come città alta secondo me li prendi tutti puoi andare quando vuoi brava no ne ho visti i colpi eri abbastanza precisa io non sono molto da simulatore di guida però una volta all'oratorio c'era uno con il volante ed ero bravissimo e c'è anche super mario con il pad gigante aspetti là dillo per favore no dillo avevi ragione oh via donna felicissima chissà come mai alla fine ho realizzato la mia richiesta sono riuscito a comprare una spada grazie mille arrivederci ciao ho avuto l'autografo del doppiatore di lupen e tu dicevi di non portarlo il quaderno che bello questo è il fine della nostra giornata sei sicura? no però volevo dire qualcosa di romantico mi sa che se guardiamo questa scena è spoiler per noi con i capelli da stronzo ci salutiamo San Marino no non aprirla poverina no la stai squirtando wow la spada di sasuscule è pesantissima non sembra ma ma è la prima katana che vedo dritta questo invece ha il suo arco è di legno un po' cippino nel senso per bambini però comunque dicono che sembra fatto bene quella no torna qui no aperitivo con classe alla fine siamo riusciti a mangiarla entro la settimana una pizza ed è proprio anche buona chi lascia le cruste è un criminale non pensavo di essere venuto in vacanza con mia nonna che ti metti un costigo mi vera mancia cioè sono l'unica nonna al mondo che non cucina un ca eh vabbè non avevo un coltello ho dovuto tagliare il pane con il cucchiaio piove è il penultimo giorno in teoria ce l'abbiamo anche domani l'ombrellone e l'asdraio però poi dove lasciamo la roba dove ci asciughiamo dove ci laviamo a me piace la verdura e l'insalata in generale questo è tanta rucola però vabbè con tutto anche il ramo magari anche noi sono una persona adulta ho finito gli studi sono diplomata sono laureata non si sa come però sono laureata ho un lavoro ho uno stipendio sono in età maritabile insomma sono una persona seria dai andiamo 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 meno male che non abbiamo nessuno di sotto ma è l'ultimo giorno bisogna buttarsi subito capito ma non c'è neanche il sole l'ultimo giorno è d'obbligo buttarsi subito amo fighetta ah non è fredda l'acqua è ghiacciata è pure bello starci dentro vai a largo vai grazie di aver seguito la nostra vacanza anche quest'anno ciao grazie ciao